A Palazzo Laskaris si è tenuto l'evento Violenza in Africa e i diritti delle donne, voluto dalle consulte femminile, europea e delle elette, sui temi denunciati da Dennis Mukwege, che dirige un ospedale in Congo e che è impegnato in particolare nella cura di donne vittime di violenza. È stato anche presentato il video del conferimento a Mukwege del premio Sakharov, avvenuto in occasione dell'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.